L'Avvocato Ginalupo ha rassegnato le dimissioni da Assessore alla Cultura e alla Pubblica Istruzione del Comune di Taranto, un comunicato in cui vengono evidenziate le ragioni e le motivazioni più profonde e più rilevanti sono quelle legate a divergenze con la dirigenza, con una dirigente. Cosa è successo di preciso? Perché già per quanto concerne la visita di Paolo Crepe a Taranto c'erano state altre discrepanze con la dirigente e allora si crea un problema di convivenza tra amministratori e dirigenti. Voglio intanto sgomberare Luigi, ti ringrazio di avermi dato questa opportunità, voglio sgomberare il campo da elezioni, da gossip vari, da retropensieri. Chi mi conosce sa che sono una persona istintiva, quindi è stata una mia reazione istintiva quella ingiunta dell'altro pomeriggio. Io sono così, non preparo nulla, sono una persona passionale e sanguigna. Questo anno di Assessorato, che poi io sono stata nominata ad agosto, è stato per me molto faticoso. Tu sei bene, senza entrare in particolare, le vicende molto complesse e anche dolorose che mi hanno colpito a livello familiare. Però nonostante questo, poiché il sindaco ci aveva chiesto una presenza in Assessorato H24, proprio una lettera dove ci chiedeva questo, io ho rispettato queste sue indicazioni. Quindi credimi, è stato con grande sacrificio, ho rispettato sempre la mia presenza ogni giorno. Da gennaio mi sono ritrovata una nuova dirigente, non ho nulla di personale contro la dottoressa in questione, una donna, mi sono rapportata immediatamente con lei. Ecco, pensavo in una maggiore feeling con una dirigente donna, che prima non c'era stato, ma io sono una persona che collabora con chiunque voglia fare e l'ho dimostrato con i fatti, perché qualunque mia iniziativa ho cercato di coinvolgere quante più realtà esistenti sul territorio, siano scuole, siano istituti, siano club service, come avete visto. Mi aspettavo una maggiore collaborazione tra Assessore e Dirigente. Se l'Assessore è l'esponente, rappresenta e sostituisce il Sindaco, il Dirigente poi è chi opera. Avevamo lavorato, avevamo presentato al Sindaco una programmazione, senza andare molto oltre maggio, perché poi tu sai, siamo in campagna elettorale e tante cose non si possono fare. Quindi mi sono sforzata, con queste anche difficoltà pesanti, di creare comunque dei progetti che non andavano oltre aprile. In cosa è stata, per così dire, osteggiata? No, non si tratta neanche di osteggiata. C'è stata proprio una mancanza di comunicazione, perché io ho cercato anche di chiamarla, ero fuori, ero in un ospedale in quella settimana, per cui ho cercato di comunicare, ho risposto, ho telefonato in vano, non mi ha richiamato. C'è stata proprio una chiusura, probabilmente forse anche frutto di qualche equivoco, ma non so cosa bene ci sia. Certo è che per Paolo Crepè il Comune non ha stampato i manifesti, e voi avete visto che in città non c'è stato un solo manifesto di Paolo Crepè, pur essendo un evento importante, completamente sponsorizzato da me come consigliera della pari opportunità per la provincia e anche dai club. Però ci tenevo che il Comune ci fosse, ci fosse con un piccolo segno, magari offrendo i manifesti alla città, perché è stato un bello evento, voi lo sapete, avete fatto i servizi di 500 persone. Io ero fuori, l'ho saputo tardi, cioè il giorno prima dell'evento che i manifesti non erano stati, ho chiesto spiegazioni, non mi sono state date. Va bene, pazienza. La cosa a cui più ci tenevo era la settimana della cultura dei ragazzi. Ti faccio l'esempio, ti dico con precisione che questa doveva essere una settimana, nell'ultima settimana di marzo. Poi le vicende personali mi hanno suggerito di restringere il campo alla settimana e abbiamo pensato di farlo per tre giorni. Giovedì, venerdì e sabato, quindi l'ultimo fine settimana di marzo, perché poi entriamo nella settimana santa, con la Domenica delle Palme, non volevo interferenze in questo caso. Sarebbero state giornate in cui all'attenzione c'erano i bambini, bambini in letteratura, in cui costruivano addirittura dei libri, bambini in natura, con l'angolo della carezza. Premetto che questo programma era stato sottoposto al vaglio del sindaco che me l'aveva approvato. Non so perché sono tornata e pur avendo una delibera approvata all'unanimità di giunta, non ho trovato, ho trovato poi un blocco, nel senso che il bando di evidenza pubblica non è stato pubblicato sul sito del comune. Questo mi ha fatto comprendere che non ce l'avrei mai fatta a creare questa giornata per il 29 marzo. Spontaneamente lei ha, per così dire, sbattuto la porta. Mi scuso se ho compiuto questa cosa, ma voi mi conoscete. Speravo, mi sono rivolta al sindaco, a cui sono legata ad un affetto sincero, da dieci anni l'ho sempre dimostrato, che lui mi aiutasse a capire, soprattutto quali erano i problemi, quali erano gli ostacoli. Ho trovato invece un sindaco che non ha preso una posizione e in quel momento ho detto, va bene, allora se noi come giunta approviamo una delibera, un atto di indirizzo all'unanimità, però poi non riusciamo a renderlo concreto, vuol dire che siamo una giunta senza nervo. Oddio, sul sito mio personale di Facebook, che ripeto, non è pubblico, è rivolto ai miei amici, quindi non capisco come si possano dolere coloro che non sono miei amici su Facebook, per cui è un social ristretto. Ho usato un altro termine, diciamo comune. Senza palle, lo dico io. Ma non volevo assolutamente, no, mi fa ridere questa cosa Luigi, perché non volevo assolutamente dire che gli assessori sono senza palle. Ci mancherebbe. Ecco, ho voluto solo dire che un assessore non può farsi bloccare un'iniziativa da un dirigente, ma senza motivo. Mi scuso, ecco, consentimi questa cosa, se ho offeso la sensibilità di qualche assessore, che entrando nel mio sito personale di Facebook, pur non essendo mio amico, ha letto questa frase, che è comunque simpatica, del gergo naturale, dai, chiunque dice no. A me dicono, per esempio, che sono una donna con le palle, quindi non vedo perché si possano essere offesi, ma non avevo alcune... Forse qualcuno aveva la coda di pagna. Non avevo nessuna intenzione di offendere nel sinico della giunta, ci sono persone che conosco da tanti anni, mi meraviglio anche che si possano fare queste questioni. Ci sono assessori che hanno iniziato con me, che conosco dal 2007, ci legano dei rapporti di amicizia. Ecco, magari speravo che anche gli altri assessori che a loro volta hanno subito magari degli intoppi, degli ostacoli fossero solidali, che tutto potesse essere ripianato subito. Invece nessuno in quella seduta ha intervenuto e io ho dovuto prendere andamene. Ho capito che tanto non me la facevano fare la settimana della primavera dei ragazzi, pur ripetendo, essendoci una delibera in giunta approvata all'unanimità e anche i fondi, perché i fondi c'erano e c'erano dall'anno prima. Che poi Luigi c'è tutta una serie di problemi, perché avevo chiesto una maggiore attenzione nei confronti dei bambini degli asili, avevo chiesto più fondi per gli asili, ma questa è tutta un'altra questione, ne parleremo magari un'altra volta. L'impegno dell'Avvocato Gina Lupo, l'impegno sociale e l'impegno per la collettività ionica continua. Ma assolutamente, io sono serena, ho solo un rimpianto, fammelo dire. Quello di aver lasciato solo mio figlio anche in un ospedale per tornare di corsa a Taranto ed essere presente negli avvenimenti. Tornando indietro forse metterei più al primo posto la famiglia, quando poi ti accorgi che questi sacrifici che sono stati fatti per sei mesi non vengono neanche capiti e apprezzati. Ma è la vita, se la vi, e quindi io sono una donna abituata ad andare avanti. Certo, sono consigliera di parità, non ritengo che la vita finisca perché uno non è più assessore, mi lega al sindaco un affetto sincero, li auguro ogni bene e consentimi di dire di caricare i colleghi assessori. Non era un'affesa rivolta a voi, se ve la siete presa, beh dai, un minimo di sorriso. In fondo ho voluto sollevare un problema e spero che da domani voi possiate lavorare forse in maniera un po' più serena rispetto a quello che ho dovuto affrontare io.